Il piacere di presentare un bellissimo numero, i meravigliosi scimpanzè. Bravissima! Anche lui vuole l'applauso! A noi, a me che gli prendiamo il manopattino! Ci ho visto! Scapa, scapa! Ecco, ecco, ecco! Viva me! Viva, viva! BIC presenta Febo Conti nell'imitazione di Ridolini Grazie a tutti 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 Ciao a tutti Liana non ti fermi con noi? No, venite voi da me piuttosto Vi preparo un caffè Liana Orfei Grazie a tutti Grazie a tutti Liana, sei stata stupenda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti